Un mazzo di fiori, un paio di scarpe rosse, ma soprattutto ancora una volta l'invito a tutte le donne a denunciare o contattare le forze dell'ordine per attivare una protezione sociale nei loro confronti. E questo è il messaggio mandato da molte associazioni napoletane alle donne vittime di violenza, un fenomeno che soprattutto nell'ultimo anno con il lockdown si è accentuato con numeri davvero che fanno riflettere. La morte di Ornella Pinto è solo l'ultimo vergognoso atto di una guerra sociale che da anni si cerca di combattere, soprattutto educando le nuove generazioni. Per ricordare la giovane mamma, uccisa con 12 coltellate dal compagno davanti al figlio di 4 anni, oggi bandiere a mezzasta al Consiglio regionale della Campania. La decisione è stata assunta dal presidente del Consiglio, Gennaro Oliviero, che ha accolto la richiesta della vicepresidente Loredana Raia. È la prima vittima di femminicidio del 2021 in Campania. Ornella è stata anche ricordata all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici inutilmente per ore hanno tentato di salvarle la vita. Gli operatori sanitari, la direzione, il centro antiviolenza Daphne del Cardarelli e la senatrice Valeria Valente, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, si sono dati appuntamento alla panchina rossa dell'ospedale per testimoniare la volontà di proseguire nella lotta contro la violenza sulle donne. Anche Tina Monti, presidente dell'associazione Megari de Felice e componente della commissione Pari Opportunità della Regione Campania, ha ricordato Ornella e ha dichiarato di voler realizzare una panchina rossa in suo nome. La morte di Ornella è l'ennesimo femminicidio a cui dobbiamo assistere. Le ultime parole, anzi le urla, le grida di questa donna di disperazione rivolte alla sorella. Abbiamo intravisto un segno di disperazione di tante donne purtroppo recluse in casa a causa del Covid. Massima vicinanza alla famiglia Pinto. Ci sarebbe la guerra per il predominio sul territorio di Napoli S e sul commercio illegale degli stupefacenti alla base dell'omicidio avvenuto a Ponticelli sabato notte di Giulio Fiorentino, 30 anni di Torre del Greco e del ferimento di Vincenzo di Costanzo, 24 anni di Napoli. Gli inquirenti stanno indagando su una guerra che si trascina da quasi due decenni per il controllo dei resti dell'impero di sangue e soldi che fu dei sarno di Ponticelli. L'agguato di sabato notte, ipotizzano gli uomini della mobile, potrebbe legarsi a doppio filo ad un altro agguato avvenuto nella zona 24 ore prima in cui fu vittima Giuseppe Righetto, detto Blob, uomo imparentato dei Casella, del rione Conocan, in lotta da anni, con i De Martino e i loro arleati dei De Micco del rione Incis. Un agguato mascherato da tentata rapina, Righetto fu colpito infatti ad una mano mentre a suo dire tentava di difendersi da una rapina. Destino diverso, quello di Fiorentino, ucciso con diversi colpi di pistola al torace, per lui inutile la corsa all'ospedale Villa Betania, più fortunato Vincenzo di Costanzo, ferito alle gambe e all'inguine da diversi colpi di pistola. In queste ore l'unico testimone, non appena sarà possibile, sarà ascoltato dagli investigatori che, dalla sua versione, sperano di poter ricavare elementi utili, visto che in zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza del Comune di Napoli che hanno registrato le fasi cruente dell'assalto dei killer. Un caffè da preparare al risveglio, come ogni mattina, il gas lasciato aperto per sbaglio, la luce accesa e lo scoppio. Potrebbe esserci un gesto quotidiano macchiato involontariamente da un attimo di distrazione, secondo i primi accertamenti degli investigatori e dei vigili del fuoco alla base dell'esplosione che questa mattina ha scosso il Comune di Siano. Un rumore assordante, il fumo, la paura. L'esplosione intorno alle 7 in un'abitazione di Via Mazzini. Nello scoppio sono rimasti feriti due anziani che vivono nella casa interessata. Sul posto sono giunti South di Siano e Fisciano, Misericordia, Croce Azzurra di Siano, i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera e quelli di Salerno, la polizia locale, i carabinieri. L'uomo è stato portato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, la moglie, 70enne, all'ospedale di Curteri, a Mercato San Severino. E lui, un anziano di 79 anni, il più grave, avrebbe riportato ustioni su diverse parti del corpo. Intanto sopralluoghi ed accertamenti sul posto sono stati eseguiti dai carabinieri di Siano e quelli della compagnia di Mercato San Severino. Si penserebbe, come detto, dai primi rilievi dei vigili del fuoco ad una fuga di gassa. Sarebbero diversi danni anche alle palazzine circostanti. In strada, questa mattina, ancora in pigiame, con la paura negli occhi, parte del vicinato. In via Mazzini sono giunti anche esponenti dell'amministrazione comunale. Il sovraffollamento è un problema endemico delle carceri campane e davanti alla pandemia la situazione è esplosa, denuncia il garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello. Negli ultimi sei mesi negli istituti penitenziari campani sono stati registrati 1644 contagi da Covid e 10 decessi, numeri impietosi forniti durante la presentazione della relazione annuale realizzata in collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla detenzione. Nel corso dei lavori Ciambriello ha chiesto un'accelerazione sui tempi di vaccinazione della popolazione carceraria proposta che trova già da tempo il favore del Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. In tutta Italia 18 detenuti sono morti per Covid, 4 in Campania, 10 agenti in Italia morti per Covid, 5 in Campania. Un solo medico sanitario morto per Covid, proprio il medico sanitario del carcere di Secondigliano. Quindi la campagna di vaccinazione deve iniziare sul serio. In questo momento in tutta Italia ci sono in movimento alcuni momenti di vaccinazione. Siamo quasi a mille detenuti vaccinati e a 3.700 agenti di polizia. In Campania non è ancora partita. Sono convinto che in questo nuovo piano pandemico che il Governo sta mettendo su questa vicenda viene affrontata con certezza. Restano sullo sfondo del binomio carcere e Covid i problemi di sempre affrontati durante il dibattito a cui è intervenuto anche il garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma. Il problema è generale ed è un problema non soltanto numerico ma è anche un problema qualitativo. Anche il tempo detentivo, il tempo che uno passa al di là delle sbarre, deve avere un significato. Altrimenti l'esposizione al reato rischia di ripresentarsi ogni volta che la persona finisce l'esecuzione penale. Quindi abbiamo un problema in generale quantitativo, i numeri, un problema di qualità dell'esecuzione penale. Grazie. 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 Grazie.